Nel contesto dei momenti formativi dedicati agli associati FIAIP Collegio di Varese incontriamo il relatore Fabio Vitali. Fabio Vitali oggi ha trattato un argomento di particolare interesse qui al Tennis Club Gallarate, una location davvero molto elegante e molto apprezzata dagli associati al Collegio FIAIP Varese. Di cosa si è trattato? Abbiamo parlato oggi di tutto ciò che riguarda le registrazioni telematiche dei contratti di locazione partendo dalle abilitazioni necessarie per poter avere la possibilità di utilizzare i sistemi dell'Agenzia delle Entrate fino allo scarico di tutti quelli che sono i software necessari per poter lavorare e alcuni esempi pratici di registrazione e di invio delle ricevute all'Agenzia delle Entrate in modo tale che agli associati fosse chiaro come poter utilizzare questo servizio che è uno dei servizi dell'Agenzia che funzionano meglio. Diciamo che i contatti telematici sono sempre più frequenti per ogni tipo di relazione con la pubblica amministrazione e FIAIP è sempre molto all'avanguardia in questo, ormai da anni. Sì, sì, direi proprio di sì. Abbiamo fatto tantissimi corsi già anche in passato su questi argomenti e continuiamo a farli ovviamente rivolti ai nuovi associati o comunque anche a tutti coloro che vogliono avere delle delucidazioni e delle chiarificazioni anche in base a magari programmi che sono usciti nell'ultimo periodo, quindi a delle modifiche che magari l'Agenzia fa all'interno degli stessi programmi. Ecco, un augurio in chiave futura, quale rivolto agli associati? In questo caso al collegio provinciale Fiaivarese che rappresenta uno dei collegi d'eccellenza a livello provinciale regionale, ecco, tra i tre collegi provinciali, però in generale con una, direi, regione Lombardia che ha fatto grandi passi in avanti soprattutto nel proporre agli associati un piano formativo direi di ottimo livello. Sì, direi decisamente di sì, sia Fiaivarese che è sempre stata uno dei collegi più attivi all'interno della regione, ma soprattutto anche tutta la regione Lombardia, hanno messo la formazione come prima cosa essenziale e quello che appunto mi sento di dire agli associati è di continuare a formarsi, formarsi e formarsi e sempre tenersi informati e aggiornati perché la nostra attività di agente mobiliare è un'attività che comunque richiede una formazione continua. Grazie davvero al relatore Fabio Vitali e naturalmente all'appuntamento in aula, ma soprattutto alle prossime, ai prossimi momenti formativi del collegio provinciale Fiaivarese. Grazie a voi e grazie al collegio di avermi invitato.